Dopo il primo turno delle elezioni amministrative ad Albino, chiediamo a Marco Bianchi, esponente della Lega Locale, un giudizio sull'esito del voto di domenica scorsa. Allora, il giudizio sull'esito del voto di domenica scorsa è sintetico, la Lega Nord è risultata, come tutti sappiamo, il primo partito ad Albino, nonostante che che se ne dica, abbiamo ottenuto un buon risultato, potevamo fare meglio, vogliamo fare meglio, abbiamo lavorato tanto per arrivare a un risultato solo, a vincere e a portare Davide Carrara a sindaco di tutti gli albinesi. In prospettiva, signor Bianchi, un messaggio agli elettori in vista del ballottaggio del 21-22 giugno? Allora, domenica 21 e lunedì 22 giugno, gli albinesi si trovano di fronte a una scelta importante, una scelta strategica per il nostro comune e per la nostra città, dopo che tutta la provincia ha votato in maniera chiara, precisa, Lega Nord e Popolo delle Libertà, Albino cosa vuole fare? Albino vuole votare la lista arancione di Luca Carrara con magari conseguenti aumenti di tasse comunali, conseguenti perdite di posti di lavoro o finalmente vuole prendere una strada chiara e decisa votando Lega Nord e il Popolo della Libertà con Davide Carrara, sindaco di tutti gli albinesi. Una cosa importante, la data del 21 e del 22 diventano due date importanti per Albino, abbiamo bisogno del voto di tutti, abbiamo bisogno che la gente venga a votare. Un ultimo pensiero va a tutte quelle persone, sono ancora tante probabilmente, che sono indecise sul da farsi, le invito ad una riflessione attenta, una riflessione posata, perché hanno in mano la scelta ed il futuro dei prossimi 5 anni della città di Albino e dei propri figli. Una conclusione precisa e doverosa ci tengo a farla, vota Lega, vota Lega Nord, vota Davide Carrara, sindaco di tutti gli albinesi, una scelta sicura, una scelta precisa, una scelta vincente.